Buon pomeriggio. Allora, mi sembra giusto spiegare un po' più in dettaglio, come ha chiesto anche Anthony e non solo lui, ciò che riguarderà l'RDC, specificamente l'RDC. Facendo notare, tra l'altro, che la Meloni è molto soddisfatta di questa manovra. Non lo so. Se è soddisfatta di questa pastrocchio, vabbè, lasciamo stare, eh? Ti sarebbe da dubitare veramente sulle sue capacità. Allora, la questione che mi tocca direttamente è questa, il diritto acquisito. Partiamo da quello. Tecnicamente chi sta usufruendo attualmente dell'RDC, quindi è in corso, ha un diritto acquisito in corso di godimento. Dal punto di vista della legge, questo diritto non può essere sospeso tout court. Non si può dire basta. Quindi, visto che la cosa non è assolutamente chiara, perché non è chiara, sarei curioso di vedere come intendo non procedere, perché di fatto si presta la cosa a un profilo di incostituzionalità e ad azioni legali. Non lo sto dicendo tanto per dire, l'ho chiesto a un legale. Si presta ad azioni legali, perché tu non puoi sospendere un diritto acquisito. Fino a che esiste. Quindi, io vi do la mia opinione, ribadisco opinione, i percettori attualmente in corso di godimento dovrebbero arrivare ai 18 mesi. Mentre i rinnovati, no. I rinnovati che sono occupabili affronterebbero subito questa decurtazione. Tra l'altro, decurtazione che sempre stando alle parole del governo, i quattro mesi mancanti dovrebbero essere utilizzati per corsi di riqualificazione e ricollocamento, che serviranno quello che serviranno, lo sappiamo, e essere coperti dal punto di vista delle spese dai fondi del PNRR. Perché altrimenti, ve l'ho detto, è impossibile che un percettore riesca a farli. Tra l'altro, rimanendo il problema di fondo, le strutture e gli insegnanti. Perché, come ho detto nel video precedente, certi corsi sono a pagamento e questi costi non li può sostenere il percettore. Per cui mi devono spiegare come intendono fare questa cosa. Hanno messo troppa carne al fuoco con dichiarazioni e discrezioni. Adesso che si arriva al nucleo, al centro del problema, si vede chiaramente che non hanno neanche loro le idee molto chiare. Per essere gentili. La seconda cosa, appunto, quelli che vengono esclusi. Allora, vengono esclusi tra gli occupabili anche tutti quelli che hanno familiari a carico, o figli a carico, che necessitano di assistenza continua. Per rispondere proprio al caso di Anthony. Se tu sei il percettore, ma hai tua madre, che ha necessità di cure costanti e continue, tu dovresti essere escluso dagli occupabili anche se rientri nella fascia d'età, che è ribadito, va da 18 ai 59, no? Come ho sentito dire un paio di giorni fa da qualcuno, dai 18 ai 65. E cosa fai? A 65 anni uno fa la domanda per l'appe sociale. Che cazzo gliene frega di andare a prendere l'eredici, scusami, per logica. Per cui la fascia degli occupabili si restringe ulteriormente. Perché vengono esclusi tutte le persone in quella situazione. rimanendo il fatto che occupabili dove non si sa. Non si sa neanche il rapporto che ci sarà con le agenzie di lavoro interinale. Rapporto introdotto e vagheggiato da Orlando, che dovrebbe essere portato avanti perché le agenzie interinali sono state coinvolte, ma queste agenzie non lavorano gratis, anche lì. Ma vista l'inefficienza dei centri per l'impiego, si va a soluzioni di quel tipo. E si torna ancora al problema di base. Un lavoro, per essere veramente un lavoro, dovrebbe avere uno stipendio congruo e una durata congrua. Le agenzie interinali non ragionano e non lavorano su questi canoni. Il loro interesse non è piazzare una persona a tempo indeterminato o con un contratto medio-lungo, quindi che superi l'anno, è piazzare contratti corti. Vabbè. In merito, poi rispondo in questo video così, in merito alla prelevabilità dei 150 euro. Ve l'ho detto, se le procedure sono le stesse del bonus 200 euro di luglio, l'Inps prima ha detto che non erano prelevabili, poi ha detto che erano prelevabili, poi ha detto che non erano prelevabili. Di fatto, molte persone hanno potuto prelevarli perché Poste Italiane ha fatto un po' il cavolo che voleva. Dipenderà da come agirà Poste Italiane. Se metti i settaggi giusti, si possono prelevare. Se non metti i settaggi giusti, no, li spendete con la carta. Però, anche questo lo sapremo quando ci saranno fattualmente le lavorazioni e le ricariche dei 150 euro. Prima è inutile ragionarci su, perché la volta precedente è successo esattamente l'opposto di quello che aveva detto l'Inps. Perché questo dipende da Poste Italiane, tra l'altro. Tecnicamente dovrebbero essere prelevabili perché non è un bonus connesso all'RDC. Va sulla carta di RDC, ma non è connesso all'RDC. È un po' il discorso dell'assegno unico figli su RDC, che dovrebbe essere completamente prelevabile. Molte persone non ci riescono perché Poste Italiane non modifica i settaggi. Quindi, ragazzi, qui sì c'è la norma, ma questa norma manca di tutti gli elementi che la fanno diventare una cosa strutturale. Quindi, mancano informazioni sui centri per l'impiego, mancano informazioni su corsi di ricollocazione e riqualificazione, mancano informazioni sulle coperture dei mesi in cui queste persone sono avviate ai corsi di riqualificazione e ricollocamento. Manca l'idea, che io continuo a ribadire, di utilizzare persone con competenze che prendono l'RDC come docenti, docenti professionali, cosa che non richiederebbe una laurea, richiederebbe una conoscenza pratica. Certo, servirebbe anche gente che tecnicamente sappia anche insegnare la lingua italiana, perché qua è un buco non da poco. C'è un problema di analfabetismo di ritorno in Italia ed è un problema molto pressante, che però non viene ovviamente affrontato, perché, vabbè, si tratterebbe di dover rimettere in discussione il fatto che gli italiani leggono poco, i libri che si comprano generalmente sono libri di monnezza e tanti altri aspetti. Come vedete, io posso darvi queste indicazioni, ma sono indicazioni minimali, perché manca l'ossatura della riforma. Cioè, sì, gli uomini possono dire che dopo otto mesi di percezione si ferma tutto e poi gli altri quattro mesi fa il corso obbligatorio che sarà coperto dai fondi PNRR, ma manca tutta la struttura che deve circondare questa procedura, cioè appunto scuole, docenti, strutture, sistemi, macchinari, se vuoi riqualificare qualcuno dal punto di vista di operatività manuale, per dire, vuoi riqualificare uno come fresatore, devono esserci delle frese su cui fare le prove, non è che gli fai l'elezioncina teorica e poi lo sbatti sotto una fresa, perché quello ci lascia giù la mano. Mancano tante cose. Essere soddisfatti di questa manovra, in cui molti elementi sono letteralmente scritti nell'aria e mancano le basi solide, manca il cemento, dà un'idea di un pressapochismo imbarazzante. Ecco, io spero di essere riusciti a chiarirvi un attimo la vostra posizione. Ed è proprio da questa posizione che bisogna cominciare a menare fendenti, perché, ve l'ho detto, per così com'è, io non so cosa faranno nel 2024, non so neanche se ci sarà ancora questo governo nel 2024, e sinceramente l'applauso che magari qualcuno ha fatto per l'aumento delle pensioni all'8,70%, adesso non ricordo esattamente, come se fosse questo gran miracolo quando si tratterà di pochi soldi, fattualmente pochi soldi, non mi sembra questa grande botta di aiuto, la creazione di una nuova social card non mi sembra una grande botta di aiuto, perché sono cose che poi vanno delegate, soprattutto la social card va delegata ai comuni e non al governo. Mi dà veramente l'idea di qualcosa fatto in maniera pressapochista. Per cui vediamo un attimo, effettivamente, un testo scritto con le procedure per potervi dire esattamente come verranno ricollocate queste persone, come verrà esercitata questa cosa, e severamente si tenterà di violare un diritto acquisito. Faccio notare che quando è successo in altri ambiti, senza andare tanto lontano, il taglio della rivoluzionazione delle pensioni, la Corte dei Conti ha dato ragione alle persone che hanno subito il taglio. Nel caso delle pensioni d'oro ci ha messo pochi mesi a dargli ragione, nel caso delle pensioni normali ci ha messo molto più tempo e non hanno preso neanche tutta la cifra, hanno preso solo una parte, ma gli ha dato comunque ragione. Quindi nel caso ci sono le vie legali per fare una class action, nel caso volessero fare una simile vaccata, una class action contro il governo per la violazione di un diritto acquisito. Scusatemi se è andato lungo, ma l'argomento non si poteva risolvere in poche parole. Io vi saluto, ci sentiamo domani per il mini video sulle lavorazioni. Ciao a tutti!